... Domenica 13 giugno, Sant'Antonio da Padova. È il 164esimo giorno, dall'inizio dell'anno ne mancano 201 al termine. Il sole sorge alle 5.21 e tramonta alle 21. La luna si leva alle 7.45 e tramonta alle 23.42. Nell'anno 13esimo del suo principato, tra il cordoglio generale, muore a Costantinopoli il grande doge Enrico Dandolo. Viene solennemente sepolto nella cattedrale di Santa Sofia. Le previsioni per domani. Condizioni di tempo stabile, in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo qualche tratto di nuvolosità in transito fino al mattino. Clima ventoso in pianura, specie al mattino, per ingresso di venti dai quadranti orientali in attenuazione nel pomeriggio. Precipitazioni generalmente assenti. Temperature minime stazionari in pianura in calo sulle zone montane. Massime in generale diminuzione, salvo in aumento in alta quota. e anche restituzia in Accusa